Anche se non lo vedo, va qui. Si può partire, Maximovic. Per Binelli prova la bomba, specialità. Attacca Maximovic, prova la bomba. Anche lui, da tre punti, Mateja Maximovic. Percentuali con una piccola cornice di pubblico ospite, anche per rispettare gli abbracci, i cambi di bandiere, le foto insieme, viste, con estrema soddisfazione da parte di tutto il movimento nella gara di andata. Io ovviamente mi rendo ambasciatore di quanto sia stato bello quell'incontro Ilia. 9 a 6. Vuole ripartire. Bomba. In risposta Stefanini. Trovata Aramburu. Campo aperto. Americanata, non va, si combatte ancora. Formica, da tre punti. Realizza Formica. Bomba e rispettacola per Binelli. Three points. Ci prova. Ancora. Saludiamo anche il grandissimo Pietro, classe 1939, questa sera a casa, ma solo questa sera. Bomba. Ilia. Atletico, volitivo. Davvero un gran bel acquisto per Carmelo Lagana. Attacca. Bellissimo l'assist all'americana. Lo completa. parte Siracov. Passaggio sull'esterno. Ribaltamento. Formica. Palla per Aramburu che sbaglia clamorosamente. Ma recupera il suo ribaltamento. Vuole andare su. La realizza. La recupera. Mirko Gloria. Nativo di Piazza Armerina. Macina chilometri di Molfetta. Giorgini ancora per Formica. Realizza il capitano Marco Formica. Pazzesco. Gli va veramente tutto benissimo. C'è il tiro da tre punti. Sul ferro a rimbalzo questa volta c'è Omar Zecchi. Sconto a rimbalzo. Rimane a terra Maximovic. Omar Zecchi. One to one. C'è un contatto and one. Super Omar. Quanto ci sei? One to one. Torno indietro. Nove secondi. Ribaltamento. Aramburu. Siracov riflette. Siracov. Prova ad andare dentro. Dalla media. Ancora un canestro. Mirko Gloria. Maximovic. Finta. Doppia finita. Passaggio in mezzo. Mavri. Si gioca uno contro uno. Contro nostro. Duro. Come Aramburu. Non va. Zecchi. Bravo. Modena. Attenzione. Dall'altra parte Formica. Fino in fondo. Cost to cost. Fantastico. Marco Formica. Sacca Guzzoli. Deve riscattarsi Reggio. Zecchi. Omar Zecchi. Va dentro. Fino in fondo. Scarico intelligentissimo. Ilario. Simonetti. Da due punti. Formica. Fino in fondo. Nel post basso. Ancora un passaggio nell'angolo. Per Aramburu. La palla si arrampica sul ferro e poi entra. Come. Finta. Dubbia finta. Passaggio creativo per Emin Maveric. Nel pitturato. Tiro troppo creativo. Palla fuori. Riparte Molfetta. Stefanini. Prova la bomba. Solo Cotone. Punisce così. Difficoltà. Attacca Mirko Gloria. Gloria. Prova il gancio. Alla grande. Forse. Forse servirebbe un time out. Bene Illia. Ora per Omar Zecchi. Ribattamento per Thomas. Binelli. Finta la tripa. Parti in palleggio. Come se fosse un esterno. Grandissimo. Ciao. Di Tos di Molfetta. Giorgi Siraco. Sull'esterno per Gloria. Dorsale di Calisi. Come se fosse un lungo. Realizza due punti fondamentali per allontanare. Per Aguzzoli. Uomo contro uomo. Il team di Quachcaro Lillo. Che va a studiare il canestro. Alisi sull'esterno. Giorgi Siracoffi nel fondo. Dinamite nelle gambe. Emin in palleggio. Serve Aguzzoli. Ancora per Tiro. Maximo vincita tre. In faccia all'avversario. Complicatissima. Perro. Si incapunisce col tiro da tre. Reggio Calabria. Non può andare sempre bene. Dall'altra parte. Va dentro Stefanini. Contatto. Non va. Tapine. Realizza. Unisce così. L'ha retro bene Carmen. Sicuramente un po' di stanchezza. Ma tocca provarci. Molto bene Formica. Ottima la difesa sul lungo. Dall'altra parte a campo aperto. Sull'esterno per Aguzzoli. Pos basso per Cessel. Va a giocarselo. Va dentro. Realizza. Finta. Doppia finta. Passo tiro. Vecchia scuola. Alla Spagna. Calisi. Post basso contro Secchi. In gravato di tre falli. Attenzione al mismatch. Passaggio. Per la bomba di Stefanini. Out. Invece. Molfetta. Cerca la lungo con questa tripa. Che diventa davvero pungente. Attacca Dirtis. Nel terzo quarto. Contatto. Non fischia l'arbitro. Aguzzoli. One to one. Va dentro Timmy. Fino in fondo. Realizza. Timmy Aguzzoli. Sventisce. Me. Va dentro. Finalmente. Canestro in percussione. Sesto punto. Per Timmy Aguzzoli. Consegnato. Fino in fondo. Molfetta. Stoppatone. Fallo. L'arbitro. Probabilmente vuole tornare presto a casa. Bomba. Servito Dirtisni. One to one. Per l'Ucraino. Prova il tiro. Giocata. Aderina. Per Federico Cigarini. Passaggio in post. Aramburu. Ribaltamento. Per Gheorghi Siracov. Non perdone. Uno contro tutti. Passaggio per Birelli. A tre. Toma. Di nuovo delle soluzioni di talento proprio. Tocca a metterci il cuore. Ilia. Realizza. Di Maximovic. Che non va. C'è il senso di sbatte. Va dentro. Bravissimo. Attenzione a fallo in attacco. Va dentro. Tira. Cadendo. Realizza. Seck. Ribaltamento per Tirtisnik. Parte in palleggio. Fino in fondo. Scarico per Ilario. Siponetti. Dombi. Maximovic. Per Omar Seck. Ancora Tirtisnik. Parte in palleggio. Ilia. Fino in fondo. Ilario Simonetti. Si rinnova la sfida contro Stefanini. Ilario. Prova a portarlo a scuola. Mamma mia. Loco di Simonetti. Seck per Ilia. Tirtisnik da tre. Realizza. Ilia. Come mi dicono. Stia dispensando cifre dai record. In quel di lui c'era. Bomba di Binelli. Solo Cotone. Volo Painai. BYE. 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 BYE.